Airbus potrebbe sospendere la produzione dell'A380 nel 2018. L'annuncio arriva al termine di un anno record per il costruttore europeo. Nel 2017 ha consegnato 718 velivoli, il massimo storico, e gli ordini acquisiti sono saliti a 1.109 aerei. La compagnia aereo-spaziale però molto probabilmente fermerà la produzione del suo Super Jumbo, senza nuovi ordini da parte della compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, l'unica che può assicurare se ordini l'anno per dieci anni. Nel 2017 gli Emirati hanno ordinato 100 A380, ma Airbus ha bisogno di almeno se ordini l'anno per mandare avanti il programma. Vanno molto meglio le previsioni dell'A320neo, con il quale il produttore europeo punta 800 consegne nel 2018 contro le 718 del 2017. Il nuovo record è alla portata nonostante l'incremento del 2% della media dei prezzi di listino. Grazie. Grazie.